Dal Vangelo secondo Matteo Una buona domenica a tutti. Gli evangelisti dedicano parecchio spazio al racconto della passione morte di Gesù e i fatti che raccontano sono fondamentalmente gli stessi, tanto che si riesce a seguire bene ciò che è accaduto. Ogni evangelista però introduce nel suo racconto anche degli episodi, dei dettagli, delle sottolineature che gli sono propri e la ragione è che con questo lui vuole dare una catechesi che interessa soprattutto alla vita delle sue comunità. E quest'anno noi abbiamo il racconto secondo Matteo e ci soffermeremo in questa spiegazione proprio su questi elementi che all'evangelista preme mettere in risalto. Erano utili per la catechesi e alle sue comunità e serviranno anche a noi per prepararci a capire bene la passione d'amore di Gesù per tutti noi. Il primo di questi dettagli caratteristici lo troviamo nel racconto dell'ultima cena di Gesù con i suoi dodici discepoli. Ascoltiamo questo racconto. Venuta la sera, Gesù si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse «In verità io vi dico, uno di voi mi consegnerà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose «Colui che ha messo con me la mano nel piatto è colui che mi consegnerà». Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui. «Ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene consegnato». Giuda, che stava per consegnarlo, disse «Rabbì, sono forse io?» Gli rispose «Sì, proprio tu». Nel racconto che abbiamo appena ascoltato ci sono due dettagli che ci stupiscono. Il primo è il fatto che tutti i discepoli si rivolgono a Gesù e gli chiedono «Ma sono forse io che ti consegno ai tuoi nemici?» «Sono forse io che voglio che tu sia eliminato da questa società perché hai disturbato il potere religioso?» «Sono forse io». E' molto strano perché ognuno sa certamente se sta dalla parte di Gesù oppure no. E allora perché glielo chiedono? Come mai sorge in loro questo dubbio? Sanno di essere dei discepoli, ma chiaramente cominciano a dubitare «Forse sono io che mi metto contro il Maestro?» Come cronaca quindi questo dettaglio è strano ma come catechesi questo interrogativo che i discepoli si pongono è molto concreto, è molto attuale come tra poco vediamo. Il secondo dettaglio è che anche Giuda fa la stessa domanda di tutti gli altri e questo è il dettaglio che troviamo soltanto nell'Evangelista Matteo e anche questo come cronaca è molto strano perché quando Gesù rispondendo a Giuda dice «Sì, sei proprio tu, colui che mi vuole consegnare». Se fosse cronaca cosa ci aspetteremmo noi? Che gli altri undici saltassero addosso a Giuda e facessero i conti con lui sul suo comportamento. Invece la cena continua tranquilla. E allora qual è il messaggio che l'Evangelista ci vuole dare con questo interrogativo che tutti si pongono «Sono un vero discepolo io o sono contro il Maestro?» e anche Giuda pone la stessa domanda e Gesù gli risponde «Stai attento, tu sei proprio colui che sei mio discepolo eppure tu mi consegni». Vediamo allora qual è il messaggio per le nostre comunità di oggi. I dodici sono riuniti con Gesù nel Cenacolo stanno tutti stendendo la mano nel piatto insieme con il Maestro e la mensa è l'incontro dei fratelli, degli amici, di coloro che si amano, non coloro che si tradiscono e allora noi contempliamo queste mani che sono tutte sulla tavola insieme a quelle di Gesù e fra queste mani c'è anche quella di colui che vuole togliere di mezzo il Maestro. Giuda non si è lasciato coinvolgere. In tre anni con cui è stato con Gesù non si è lasciato coinvolgere dalla proposta di mondo nuovo portata avanti da Gesù. Era troppo legato alle sue concezioni tradizionali di Dio sulla religione, sui valori del mondo antico e ha consegnato il Maestro. La domanda noi dobbiamo porcela continuamente soprattutto in questa settimana perché ci stiamo confrontando con la passione d'amore di Gesù. Forse noi siamo convinti, essendo battezzati, frequentando la comunità, non mancando mai alle celebrazioni liturgiche siamo convinti di essere a posto. Anche Giuda è sempre andato con Gesù eppure si pone l'interrogativo insieme a tutti gli altri sono forse io pur essendo convinto di essere nel giusto ma per caso non mi colloco contro il Maestro. Questo può capitare anche a noi oggi essere convinti di essere dei cristiani coerenti, autentici ma poniamoci questa domanda è l'invito che l'Evangelista Matteo ci fa poniti questa domanda sono un vero discepolo confrontati con Cristo confrontati col suo Vangelo Conclusa la cena Gesù si reca al Gezzemani e lì arriva Giuda che guida una folla con spade e bastoni una folla inviata dai sommi sacerdoti a un certo punto inizia una colluttazione e uno dei discepoli mette mano alla spada Matteo ci racconta così in un modo caratteristico la reazione che ha avuto Gesù ascoltiamola uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote staccandogli un orecchio allora Gesù gli disse rimetti la tua spada al suo posto perché tutti quelli che mettono mano alla spada di spada moriranno qui troviamo un messaggio su cui Matteo insiste più degli altri evangelisti il ripudio incondizionato della violenza Gesù proibisce l'uso delle armi per ottenere giustizia per costruire un mondo nuovo soltanto Matteo riporta la frase di Gesù a Pietro metti via la spada tutti coloro che ricorrono alla spada finiscono per morire di spada il mondo nuovo non lo si costruisce con la violenza questo era il criterio su cui si reggevano gli antichi regni quando era la forza quella che stabiliva chi dominava sugli altri nel mondo nuovo la violenza è esclusa entra una nuova forza che è l'amore e i primi cristiani avevano capito molto bene il messaggio del Maestro e lo sappiamo che proprio per rifiutare il ricorso alle armi alla spada al servizio militare abbiamo avuto dei martiri che hanno donato la vita proprio perché volevano essere fedeli a quello che il Maestro aveva detto voglio ricordare quello che diceva Tertuliano riguardo alla non violenza del cristiano si rifaceva proprio alla frase di Gesù togliendo di mano la spada a Pietro Gesù ha tolto la spada di mano a tutti i soldati e continuava dicendo andrà a combattere il figlio della pace al quale non è permesso neppure litigare infliggerà agli altri catene, prigione, tortura, supplizi colui che non può vendicarsi delle ingiustizie che gli vengono fatte oppure veglierà con la spada in mano il soldato si appoggerà alla lancia quando il suo Maestro è stato trafitto dalla lancia e qualche decennio dopo il biblista origine del terzo secolo diceva noi cristiani non impugniamo più la spada non impariamo più l'arte della guerra perché attraverso Gesù siamo diventati i figli della pace i primi cristiani avevano preso molto sul serio queste parole di Gesù chi usava le armi le doveva depore altrimenti non era ammesso al battesimo perché il discepolo conosce soltanto una forza quella dell'amore e questa è la forza che costruisce il mondo nuovo e ora ascoltiamo l'accenno a due fatti che ci sono raccontati soltanto dall'Evangelista Matteo il sogno della moglie di Pilato e poi il celebre gesto di Pilato di lavarsi le mani mentre Pilato sedeva in tribunale sua moglie gli mandò a dire non avere a che fare con quel giusto perché oggi in sogno sono stata molto turbata per causa sua ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e far morire Gesù Pilato visto che non otteneva nulla anzi che il tumulto accresceva prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla dicendo non sono responsabile di questo sangue pensateci voi e tutto il popolo rispose il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli la frase drammatica pronunciata dal popolo di Israele il suo sangue cade su di noi e sui nostri figli ha ricevuto lungo i secoli un'interpretazione folle insensata questa frase ha dato origine ad accuse assurde odi violenze contro il popolo di Israele come se fosse lui responsabile della morte di Gesù era totalmente diverso il significato che l'Evangelista dava a queste parole vediamo di capirlo l'Evangelista scrive nella seconda metà del primo secolo e ha presente ciò che è accaduto al suo popolo è stato colpito Israele da molte sciagure carestie pestilenze e poi la corruzione degli ultimi procuratori inviati da Roma ricordiamo Albino Gessio Floro soprattutto Gessio Floro il quale si gloriava di essere un corrotto almeno dice Giuseppe Flavio Albino il suo predecessore cercava di nascondere la propria corruzione no Gessio Floro si vantava era dedito a ogni forma di ruberie non conosceva la pietà nessun guadagno lo saziava ecco in questa situazione c'è stata la rivolta degli zelotti e tutto è poi finito in un bagno di sangue l'evangelista Matteo si domanda come mai questo è accaduto perché queste sciagure culminate poi con la distruzione della città di Gerusalemme hanno colpito il popolo di Israele e dà una risposta teologica dice questi mali hanno colpito il mio popolo perché hanno rifiutato la proposta di mondo nuovo fatta da Gesù ricordiamo che Gesù ha pianto sulla città di Gerusalemme proprio perché non era riuscito a cambiare il cuore di Israele e non avendo accolto la proposta di mondo nuovo fatta dal Maestro ecco quali sono state le conseguenze chi si allontana da Cristo è questo il messaggio che ci viene rivolto oggi chi crede ai Messia di questo mondo che hanno come obiettivo la gloria il potere la ricchezza e quindi sono disposti a tutto a ricorrere anche all'inganno alla violenza chi si fida di questi Messia finisce per rifiutare la proposta di Cristo e per avere poi le stesse conseguenze a cui sono andati incontro gli israeliti del tempo degli apostoli il sangue è caduto su di loro e sui loro figli se non accogliamo la proposta di mondo nuovo che ha fatto Gesù le conseguenze le paghiamo noi e le pagheranno anche le generazioni che ci seguiranno e ora ascoltiamo il racconto dei fatti straordinari che sono accaduti alla morte di Gesù e che sono narrati soltanto da Matteo ed ecco il velo del tempio fu squarciato in due da cima a fondo la terra fu scossa le rocce furono spezzate i sepolcri furono aperti e molti corpi di santi che erano morti furono risuscitati uscendo dai sepolcri dopo la sua risurrezione entrarono nella città santa e furono manifestati a molti abbiamo ascoltato un lungo elenco di fatti drammatici accaduti sul Calvario al momento della morte di Gesù sono molto strani come cronaca ma diciamolo subito non abbiamo ascoltato un reportage giornalistico di fatti miracolosi sono immagini con le quali l'evangelista Matteo vuole farci comprendere ciò che è realmente accaduto sul Calvario quando noi diciamo un fatto reale non è soltanto ciò che i nostri occhi vedono e verificano presente quello è il reale materiale ma c'è un reale che non è meno reale e anzi è molto più reale eppure non lo si vede ed è proprio ciò che non si vede quel reale che non era possibile vedere che l'evangelista ci vuol far comprendere con queste immagini che lui riprende dall'Antico Testamento noi confondiamo tante volte il reale con il sensibile se uno vede lo sguardo di Gesù a Pietro Pietro che ha rinnegato il Maestro quello sguardo materialmente a chi lo osservava ha detto ben poco uno sguardo come tanti altri noi sappiamo che il reale vero non visibile era molto più grande di quel piccolo dettaglio che era verificabile esteriormente l'evangelista Matteo si trova di fronte a ciò che è accaduto sul Calvario se qualcuno di noi fosse stato presente cosa avrebbe visto un uomo che qualcuno diceva era un giusto moriva sulla croce insieme a due criminali questo è ciò che tutti vedevano ma era quella la realtà o la vera realtà quello che gli occhi non potevano vedere era molto più grande era l'evento che cambiava la storia dell'umanità era l'evento che segnava il punto massimo della rivelazione di Dio allora che cosa fa l'evangelista si serve di immagini che il popolo di Israele i suoi lettori capivano molto bene per comunicarci la realtà che non era visibile ma che è fondamentale per noi comprendere proprio perché da questo evento da ciò che è accaduto sul Calvario alle tre del pomeriggio del 7 aprile dell'anno 30 ha sconvolto il mondo e sconvolge la nostra vita se noi diamo l'adesione a questa proposta di uomo che ci viene fatta Matteo vuole porci davanti agli occhi la realtà invisibile dell'evento straordinario che ha segnato la nascita del mondo nuovo vediamoli questi fatti il primo il velo del tempio si squarciò dice la traduzione no sono tutti passivi il velo del tempio fu squarciato straordinario chi è il soggetto di questo passivo e degli altri sei sono sette passivi che noi incontriamo che sono le immagini di cui l'Evangelista si serve e per farci comprendere per farci vedere l'invisibile il soggetto è Dio sono i famosi passivi divini che l'Evangelista impiega per evitare di nominare il nome ineffabile di Dio è Dio che ha squarciato il velo del tempio lo vedete sullo sfondo quel velo che separava il santo dal santo dei santi dove nessuno poteva entrare solo il sommo sacerdote una volta all'anno per andare a versare il sangue dei buoi o degli agnelli sulla pietra della fondazione del mondo quella pietra che dicevano teneva chiuso l'abisso in modo che non uscissero le acque per creare un nuovo diluvio per punire l'umanità quindi era l'espiazione che veniva fatta ma una volta soltanto in un anno il sommo sacerdote poteva entrare nel santo dei santi dove si diceva c'era la presenza di Dio quel velo nel momento della morte di Gesù fu squarciato materialmente che cosa è accaduto assolutamente nulla il velo del tempio materiale è rimasto com'era ma è un altro velo che è stato squarciato in quel momento quale velo era il velo che separava gli uomini da Dio quel velo è stato strappato da Dio per sempre adesso l'uomo ha accesso alla casa di Dio vede in faccia il volto di Dio sul volto di Gesù e questo volto adesso non ha più alcun velo lo possiamo vedere al di là di tutti i veli che noi gli abbiamo posto addosso che sono le nostre immagini di Dio quel Dio che ama i buoni e castiga coloro che gli disobbediscono il Dio che ama soltanto i buoni e non è avvicinabile dai cattivi questi erano tutti i veli che adesso sono stati squarciati perché sul calvario noi adesso abbiamo accesso a Dio e non ci scaccerà mai questa cortina è caduta per sempre in Gesù che muore sulla croce e si è consegnato nelle mani degli uomini il Signore si è manifestato come il Dio che è amore e soltanto amore ecco l'immagine quindi di questo velo del Tempio che è stato squarciato da Dio non il velo del Tempio materiale è l'immagine di cui l'Evangelista Matteo ci serve per dirci l'invisibile ciò che è realmente accaduto sul calvario seconda immagine la terra fu scossa non è la terra si scosse no fu scossa la terra e l'immagine è quella del terremoto che era ben nota nell'Antico Testamento ricordiamo quando Dio scendeva sul Sinei per parlare con Mosè il monte tremava perché dove Dio entra c'è sempre uno scuotimento un qualcosa che viene buttato all'aria concretamente sul monte Sinai il terremoto non avveniva sul monte avveniva nella mente nel cuore di Mosè perché quando entra Dio nella nostra mente nel nostro cuore lì avviene un terremoto è bella questa immagine biblica che dice ciò che è successo quel giorno sul calvario il mondo è stato sconvolto e chi leggeva Matteo capiva benissimo il messaggio che l'Evangelista stava dando era il crollo del mondo antico e l'inizio di un mondo completamente nuovo e ricomparirà questo terremoto al mattino di Pasqua è sempre l'Evangelista Matteo è un modo efficace per dire l'intervento di Dio quando Dio entra nulla rimane più come prima proviamo a pensare nella nostra vita che cosa accade quando noi realmente lasciamo entrare Dio il Vangelo la sua parola è un'esperienza che facciamo tutti nella nostra vita vanno all'aria i nostri sogni il nostro modo di rapportarci con gli altri i nostri rancori ecco tutto questo viene scosso dalla parola del Maestro e allora si costruisce poi una vita nuova su fondamenti completamente nuovi su valori che non sono quelli del mondo antico eccolo il terremoto che è avvenuto non materialmente non c'è stato nessun terremoto non è stato registrato dagli storici non ci sono dei segni che sono stati poi colti dagli archeologi no nulla di tutto questo il terremoto non è avvenuto sulla terra materiale il terremoto è avvenuto nel mondo perché il mondo non è più stato lo stesso dopo la morte di Gesù sul Calvario la terza immagine le rocce che si spezzano questo è un significato molto chiaro per chi conosce l'Antico Testamento lo sappiamo il profeta Ezechiele che aveva parlato del cuore di pietra che sarebbe stato spezzato i cuori di pietra sono stati spezzati da ciò che è accaduto sul Calvario perché da quel giorno l'uomo deve confrontarsi non con l'uomo di successo di questo mondo ma con quell'uomo che è riconosciuto da Dio come suo figlio quindi come l'uomo realmente riuscito colui che dona la vita per amore quando uno lo contempla gli si spezza davvero quel cuore di pietra che ha ereditato e riceve il cuore nuovo che è quello del Maestro l'altra immagine la quarta i sepolcri furono aperti non si spalancarono i sepolcri furono aperti da Dio e molti corpi di santi che erano morti furono risuscitati il riferimento qui è chiaramente al profeta Ezechiele che aveva detto un giorno Dio aprirà i vostri sepolcri risusciterà gli israeliti dalle loro tombe aprirà le tombe risusciterà ecco è la realizzazione di questa profezia materialmente che cosa è successo perché continua il testo dicendo uscendo dai sepolcri dopo la risurrezione sono entrati nella città santa e furono manifestati a molti ci chiediamo come cronaca non può andare perché sono risorti dopo la risurrezione sono apparsi a molti nella città santa e poi ci chiediamo poi sono tornati nei sepolcri un'altra volta non è cronaca e qui siamo di fronte a una pagina di teologia che l'evangelista Matteo scrive per dirci con il linguaggio biblico si sono realizzate le profezie è quella verità che noi conosciamo molto bene quando Gesù è morto quindi è sceso agli inferi dove era stato preceduto da tutti gli uomini che erano morti prima di lui fin dall'inizio dell'umanità quegli inferi in cui lui è entrato sono stati svuotati e quando lui è entrato è entrata la forza divina quella forza che vince la morte ma la vince definitivamente non come facciamo noi quando riportiamo in questa vita biologica le persone no poi la morte torna a riprenderle adesso c'è un intervento di Dio quando Gesù è morto scendendo negli inferi ha svuotato quegli inferi non portando di qui di nuovo coloro che erano morti ma introducendoli tutti nella vita che non ha fine eccole queste sette immagini di cui l'Evangelista Matteo si è servito per dirci cosa realmente è accaduto sul Calvario materialmente gli occhi dei presenti hanno visto molto poco l'Evangelista con queste immagini ci ha aiutato a capire la verità la vera realtà quella che tocca poi le scelte della nostra vita conosciamo bene un altro episodio che ci viene raccontato soltanto dall'Evangelista Matteo che è la morte di Giuda gli altri evangelisti non ne parlano ascoltiamo questo racconto Giuda colui che lo aveva consegnato vedendo che Gesù era stato condannato preso dal rimorso riportò le 30 monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani dicendo ho peccato perché ho tradito sangue innocente ma quelli risposero a noi che importa pensaci tu allora egli gettate le monete d'argento nel tempio si allontanò e andò a impiccarsi i capi dei sacerdoti raccolte le monete dissero non è lecito metterle nel tesoro perché sono prezzo di sangue tenuto consiglio comprarono con esse il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri perciò quel campo fu chiamato campo di sangue fino al giorno d'oggi allora si compì quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia e presero 30 monete d'argento il prezzo di colui che a tal prezzo fu valutato dai figli di Israele e le diedero per il campo del vasaio come mi aveva ordinato il Signore abbiamo ascoltato un episodio che presenta anche delle zone d'ombra misteriose e credo che non verrà mai chiarito dal punto di vista storico Giuda che muore per impiccagione dopo essere andato là nel tempio a scagliare quelle 30 monete che gli erano state date dai sommi sacerdoti negli atti degli apostoli noi troviamo un racconto molto diverso dalla morte di Giuda viene fatto da Pietro proprio all'inizio degli atti degli apostoli diciamolo subito non ci interessa materialmente come è finito quest'uomo deve esserci stata una morte drammatica che è stata però riletta dai cristiani per cogliere un messaggio che è quello di prestare attenzione alle scelte che facciamo perché potremmo rovinare la nostra vita come ha fatto quest'uomo che per tre anni era stato con Gesù ma a un certo punto si è staccato lo ha consegnato sempre nel Nuovo Testamento si dice che Giuda ha consegnato il Maestro non si dice mai che ha tradito il Maestro sempre la sua azione è stata quella di consegnarlo alle autorità religiose io penso che sia importante almeno per un momento liberarci degli stereotipi che abbiamo riguardo questa figura di Giuda e allora non possiamo non provare rispetto e pietà per il dramma che ha passato quest'uomo che da come ne parlano Pietro, Giovanni e gli altri evangelisti in genere sembra proprio che nel gruppo degli Apostoli non avesse amici che cosa può essere successo in Giuda lui ha ascoltato il Maestro ma con la catechesi che aveva ricevuto con le convinzioni che si era fatto riguardo al Messia atteso è rimasto deluso da Gesù anzi ha visto che Gesù era una persona pericolosa per la struttura perché si allontanava dalle tradizioni del suo popolo e era rifiutato dall'autorità religiosa e lui si è fidato dell'autorità religiosa e a un certo punto ha consegnato a questa autorità il Maestro perché ha visto che Gesù avrebbe terremotato il mondo ecco che cosa è accaduto in quest'uomo che a un certo punto però si è sentito solo terribilmente solo e ha portato il peso del proprio errore purtroppo quest'uomo è andato a confidarsi a sfogare il suo rimorso il suo tormento interiore dalle persone sbagliate i sacerdoti del Tempio che si erano serviti di lui e poi si sono disinteressati di lui direi ha sbagliato confessore se fosse andato da Gesù se si fosse rivolto a Cristo la sua vita si sarebbe conclusa in un modo completamente diverso ecco l'errore che Giuda ha fatto ha commesso lo sbaglio di non fidarsi di Cristo ha fatto la scelta sbagliata ma quando si è reso conto del proprio errore doveva confidarsi con Cristo non con i suoi nemici avrebbe salvato la propria vita c'è un ultimo episodio che è riferito soltanto da Matteo le guardie poste a custodia del sepolcro ascoltiamo prima il racconto poi cercheremo di cogliere il messaggio il giorno seguente quello dopo la parasceve si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei dicendo signore ci siamo ricordati che quell'impostore mentre era vivo disse dopo tre giorni risorgerò ordina dunque che la tomba venga vigilata fin dal terzo giorno perché non arrivino i suoi discepoli lo rubino e dicano al popolo è risorto dai morti così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima Pilato disse loro avete le guardie andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete essi andarono e per rendere sicura la tomba sigillarono la pietra e vi lasciarono le guardie fin da quando il figlio di Dio è giunto in questo mondo i dominatori hanno capito il pericolo che il loro regno stava correndo lo ricordiamo che cosa ha fatto erode il grande ha cercato di eliminarlo immediatamente perché si era reso conto che era entrato un regno completamente nuovo che avrebbe sgretolato i regni antichi quei regni che erano basati sui criteri della forza della violenza del sopruso l'ingiustizia la furbizia sono le forze su cui vengono costruiti i successi dei regni del mondo è entrato uno che ha dato inizio a un mondo nuovo non più quello delle belve quello di coloro che sono agnelli che donano la vita donano tutto per amore e è questo regno nuovo che proprio con la sua debolezza sta terremotando il mondo antico i regni antichi e i regni antichi non si rassegnano a scomparire pacificamente cercano di sopravvivere quindi reagiscono aggrediscono è ciò che è accaduto con Gesù i regni di questo mondo i dominatori politici religiosi si sono collegati e sono riusciti a porre nel sepolcro colui che per loro era pericoloso e sono felici quel venerdì quando finalmente pongono quella pietra davanti al sepolcro eppure l'evangelista Matteo solo lui ci dice che non erano tranquilli pensavano di avere definitivamente posto fine di avere celebrato la propria vittoria su colui che aveva annunciato il nuovo regno eppure si presentano a Pilato e dicono dobbiamo custodire quel sepolcro perché non esca e dicono magari i disceppoli vengono lo tirano fuori e poi vanno in giro a dire che è ancora vivo vogliono proprio tenere chiuso definitivamente quel sepolcro eccole le guardie al sepolcro chi rappresentano sono il simbolo del potere di questo mondo che dopo aver celebrato la propria vittoria tenta di mantenere per sempre chiuso nel regno dei morti il signore della vita che cosa accade questo potere umano non si è reso conto che non stava confrontandosi con una forza umana avrebbe vinto si stava confrontando con un potere divino che è il potere dell'amore l'esplosione di questa forza divina la vedremo nella notte di pasqua quando l'angelo scenderà dal cielo farà rotolare quella pietra si siederà sopra di essa segno quindi della vittoria totale nessuno più si potrà avvicinare per ricollocare quella pietra dov'era e le guardie poste a difesa del mondo antico rimarranno tramortite e fuggiranno atterrite dalla luce venuta dall'alto eccole queste guardie rappresentano proprio coloro che vogliono difendere il mondo antico teniamolo presente perché potremmo essere noi forse senza nemmeno rendercene conto quelle guardie che cercano di proteggere un mondo che invece sul calvario Cristo ha fatto definitivamente crollare auguro a tutti una buona settimana di preparazione per accogliere nella mente e nel cuore la luce della Pasqua